Ancora una fuga di monossido di carbonio, ancora una tragedia sfiorata in provincia di Arezzo. È successo domenica sera in un appartamento di Cesa in Val di Chiana. Tre le persone ricoverate, due donne, una di 29, l'altra di 39 anni ed un minore. Poche ore prima sentirsi male un'altra donna di 76 anni che si trovava nel punto di ristoro del lago di pesca sportiva di Quarata. La scorsa settimana invece una maxi-intossicazione nella chiesa di Pergo e il conseguente sequestro dell'impianto di riscaldamento. Purtroppo il monossido di carbonio si viene a formare quando la combustione avviene in carenza di ossigeno. E quindi sono queste le situazioni in cui appunto si sprigiona questo gas che è pericoloso per le persone. È chiaro che gli impianti che producono monossido stanno funzionando in una maniera non idonea. In special modo se parliamo di impianti di categoria A, cioè quelli che prendono l'aria nella stessa stanza, nello stesso locale laddove producono calore, sono quelli che devono essere maggiormente attenzionati. Chiamato killer silenzioso perché è in colore, in odore e in sapore, proprio per questo sono fondamentali alcune accortezze. Quindi quello che si raccomanda è di manutenzionare e verificare gli impianti da personale abilitato, di far eventuali modifiche sull'impianto, farle fare a ditte specializzate, di avere sempre la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte e che è il documento che stabilisce che quell'impianto è stato progettato e installato secondo la regola dell'arte.